Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il libro Termotecnica per tutti. Autore Nicola Taraschi, editore di Brisandi. Ecco alcuni contenuti. La trasmissione del calore, isolamento termico e recupero del calore, la combustione, i corpi termici, le caldaie, la contabilizzazione del calore, l'energia solare, scambiatori di calore, le canne fumarie, impianti idrico-sanitari, gli impianti, le tubazioni, l'aerolica, la ventilazione meccanica controllata, le macchine frigorifere, la pompa di calore, termodinamica e macchine motrici a vapore e gas, impianti di condizionamento, la strumentazione in termotecnica. È un volume importante, un vero e proprio manuale di 242 pagine. Sono presenti immagini, disegni, schemi, il tutto per rendere un manuale pratico, facile da capire e con tante informazioni utili. Vi ringraziamo per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Grazie e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie. Grazie.